La formazione, la solidarietà e la musica tornano all'impianto AISA di Sanzeno per una due giorni, giovedì 6 e venerdì 7 settembre di porte aperte all'intera cittadinanza. La prima giornata, quella del 6 settembre, è dedicata alla formazione anche ai più piccoli perché verranno le scuole la mattina a visitare l'impianto e a imparare qualcosa a proposito delle ricette zero spreco. Quindi la cucina antispreco per abbattere lo spreco alimentare che è una vera piaga. Poi avremo dei corsi formativi durante il pomeriggio sugli impianti industriali e sistemi di gestione dei rifiuti urbani. Questi sono corsi a crediti formativi per i tecnici. La sera ci sarà una charity dinner a favore di Casapia e di Tevenin dove raccoglieremo delle offerte per queste due strutture che si occupano dei nostri anziani e delle ragazze madri. Il giorno dopo, musica a go-go, come si suol dire, grazie all'organizzazione del Mango, grazie a Paco e grazie a una serie di artisti veramente forti. Quest'anno penso che balleremo. Quest'anno l'ospite principale sono i Digitalism, un duo tedesco di Hamburgo, famosissimo a livello internazionale, con la musica elettronica di livello altissimo, che chiuderanno la manifestazione, ma prima invece una carrellata di artisti italiani in grande crescita come Shade, come Ketam 126, Galeffi, Manitoba e tanti gruppi emergenti del territorio da tutta Italia che partiranno dalle 18. Le iniziative rientrano nell'ambito del progetto Zero Spreco e quest'anno si avvicinano anche alle energie rinnovabili. La scelta di AISA di aver messo in essere due postazioni di ricarica elettrica soprattutto da fonte rinnovabile, è un elemento molto importante questo, entra in quella integrazione perfetta che il Comune di Arezzo favorisce soprattutto le due aziende, aziende pubbliche AISA e Atam, che parlano lo stesso linguaggio, oggi fanno qualcosa di concreto perché la postazione elettrica da fonte rinnovabile entrerà a far parte in quella integrazione necessaria che servirà le auto, come si diceva, che verranno qua e troveranno un punto di ricarica segnalato a chiunque in Italia ma anche il car sharing, quindi sarà un'ulteriore postazione su cui potremo lavorare e credo che questo valorizzi un bene pubblico e lo valorizzi nella maniera più giusta.